Ciao a tutti ragazzi sono Masterio, questo è il saluto che come di solito comincio ogni mio video, nel mio video parliamo di gameplay che per lo più riguardano i pokemon come andremo a vedere in questo piccolo spezzone. Oh si che bello giocare, mamma mia, combattiamo 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 full power, full power morso, troppo forte, un altro combattimento, così i nostri pokemon diventeranno, uh numelo un bel pokemon di tipo fuoco, ma provo a catturarlo se troviamo nato eh, però femmina non lo voglio, mossico, mamma mia, e vai, si, presa! Trattiamo di Vintage Zone, che è la zona in cui parlo in tutti i giochi più vecchi che sono divertenti, come andremo a vedere in questo piccolo spezzone. Sì Il vlog che li faccio con un mio amico in cui parliamo Non ci sono le facce due chiacchiere sia io con il mio amico che con voi comunque sia Come andremo a vedere in questo piccolo, piccolo spezzone Stavo di qua Stavi di qua? Stai passato di là? No Stavo passato qua, mi dispiace Da San Benedetto fino a Arriba Transone Stai facendo fuori casa E la fama è assaggiata Questa casa è di masterio Il vlog, questo sta durando il quadro, è meglio che sta trattando molte cose Trattiamo per ultimi Ma non per importanza Video divertenti Esatto, video divertenti Come andremo a vedere in questo piccolo, ma carino, spezzone Piccolo, ma carino, si dice Vabbè, non importa Vi lascio lo spezzone Però, comunque sia Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento Condividete e iscrivetevi al canale Se vi non vi è piaciuto Io ho provato, ma più di così non so se riuscirò mai a fare Ci vediamo in un prossimo video Un prossimo appuntamento Sarà un piacere avere tutti quanti voi iscritti al mio canale Bella vera